La giornata del 25 dicembre inizia su Reteotto alle 7.50 con lo speciale Natale realizzato dalla squadra del programma di pomeriggio a seguire alle 9.15. Una trasmissione speciale con gli auguri e le riflessioni di tutti i Vescovi d'Abruzzo. Dalle 9.45 trasmetteremo nell'ordine la Santa Messa dalla Basilica della Madonna dei Sette Dolori di Pescare, a partire dalle 11 la Santa Messa dal Santuario di San Gabriele della Dolorata di Isola del Gran Sasso. Alle 13.05 entra in campo la gastronomia con lo speciale Natale di Chef in Cucina a cura di Jennifer Di Vincenzo e dalle 15 l'intrattenimento con una puntata tutta speciale di Fidati di me condotta da Federica Peluffo. L'Abruzzo protagonista dalle 17.30 con Dalla Terra al Mare e una puntata natalizia curata da Gioia Salvatore. La serata televisiva ci regalerà due grandi esclusive di Rete Otto, il suggestivo concerto di Natale trasmesso dalla chiesa di San Panfilo attorno in parte in onda alle ore 21, mentre alle 22 a grande richiesta riproporremo lo speciale Pathos realizzato da Antonio D'Ottavio, Collino Guanciale, Francesco Montanari e Davide Sacco. E lunedì 26 dicembre un altro grande evento televisivo. Alle 19 trasmetteremo My Hemi, lo spettacolo tributo di Vincenzo Olivieri ad Hemi Winehouse. Un Natale davvero speciale, come abbiamo ripetuto da trascorrere in compagnia di Rete Otto.